quando in una nazione la popolazione viene intimorita con poco e risponde a quel terrorismo psicologico non si può fare altro che continuare con quel modus operandi in ogni luogo e in ogni lago vi siete impauriti con l'esecuzione di forza siete convinti che noi abbiamo torto e che non è quella la modalità e siete tutti congruamente sulla stessa linea d'onda che non si può fare la politica non esiste e quindi ci saranno tanti capi di accusa e saranno messi dentro per contraffazione ci avete creduto vero e avete pensato che non è quella la strada e forse è meglio altro che da più certezze perché c'è di nuovo un altro popolo con qualcuno che ti crea i documenti già prodotti tutto questo è successo bene allora ne vedremo delle belle intanto posso cominciare col dirvi mi raccomando spaventatevi perché tra poco c'è l'arresto no perché un film deve avere comunque un continuo e quindi il giusto finale forse chissà chi può dirlo è un arresto in modo tale che i grandi cuori le piccole menti possano essere messe a tacere a più tardi buongiorno